E quanto stiamo per l'annoghe? Assicurazioni pagano buone, puoi stare tranquillo. Metà c'è la maita e metà ne picchiamo noi. Metà? Ci diciamo. Mi servono come pane? E se possiamo fare affinamento? Lo facciamo ora, e pure ognuno passa al sato. Mi fa pena. La tia è tutta pena di fare. Gli edichissi, poi a pratica liquidata, te la morrisi. Le avete sta facciare miglia e facci fermare queste quattro gai. Non finmo neanche. Scappaste por la tutta la comunità. Poi non fare per tre tempo. Siamo lui senza arte né parte. Siamo nulla un mercato con niente. La maggiore è la mia vita. Non fare per tre tempo. Per tre tempo con niente. Siamo nulla un mercato con niente. Non fare per tre tempo. Siamo nulla un mercato con niente. E quindi si può fare per tre tempo. E se si può fare una buona. Siamo nulla un mercato. Grazie a tutti